L'hai visto eh? Madre! Madre! Fermate questo ragazzo Fermate questo ragazzo che con un pisello enorme la vince A few minutes later Gio? Oh? Guarda non voglio far panicare nessuno Ti mando la foto su whatsapp Si? Perché molto probabilmente anche se te lo dicessi non ci non ci crede, cioè anche se te lo dicessi non ci crederesti Non ci credo Ti hanno riportato ragazzi Hanno riportato l'omba Non ci credo Ragazzi hanno riportato l'omba e stanno indagando per la doppia che ha fatto Non ci credo Nu mitto Ma ecchino Te occorre Icchino